ma ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video io sono la pixel q11 e oggi andrò prima di iniziare il video vorrei salutarvi vado a salutare adesso vado a salutare alexis the best e psico game ciao ragazzi oggi come promessa vi ho salutato nel mio nuovo video e direi di partire subito con l'amichevoli brawl stars andiamo e non mi presenti e mi ero dimenticato scusa grazie che amico che sei e comunque per molto informazione sono di nuovo indiretta sono di nuovo indiretta ai ragazzi al stand educazione non c'è anche io ho detto che il senso e dai perché proprio la doveva essere le eugenica l'ho bifata io ragazzi anche io e dai ma come dai non è giusto allora andrea chi vuoi salutare nel tuo video da nessuno ancora mi ha commentato che tristezza va bene invece saluto te in questo video saluto a pixel q11 ciao allora praticamente queste due persone a voi due mi avete veramente riempito il cuore di molta tenerezza grazie ragazzi per il supporto che hanno scritto i nostri amici allora voi voi due se state guardando questo video avete scritto dei commenti belli e grazie per il supporto grazie ragazzi a voi per il mio super il supporto veramente non c'è come ringraziarvi io devo ringraziare tantissimo anche i miei familiari che in precedenza negli altri video quando ancora non ho registrato il video gioco mi davano supporto soprattutto mio zio ciao zio devo ringraziare i miei zio soprattutto per tutti i miei tutti io salto anche tutti tutti quanti ma dico tutti tutti i miei familiari che stanno guardando questo video almeno c'è certo un po' più famosi diciamo sì anche mio zio devo ringraziare soprattutto mio zio per la sua comicità ne scrivere i commenti togol e vai ok cos'hai fatto? ecco appunto come sempre a pixel se vuoi puoi apparire webcam tanto guarda che non ti chiudono il canale dai tranquillo io mi mostro sempre in quattro configurare va bene allora se volete rivederò la mia faccia però soltanto se questo video arriva a 50 like al no e vabbè allora aspettati l'anno prossimo eh no vabbè almeno se arriva a 5 like sto video rivederò la mia faccia nel mio prossimo video e se questo video raggiunge i i ops ho sbagliato ok adesso la qualità del video aumenta se superate i 3 like o se raggiungete dipende farò un video con voi tanto vi metterò il codice del mio club qua sotto ve lo posso anche far vedere adesso eccolo qua copiatelo in questo momento così possiamo giocare tutti insieme diventare una grande famiglia esatto come l'hai chiamata? Andy family? il club? beh io diciamo che l'ho chiamata gamers family ah Andy gamer club se vedete questa schermata di schermi infiniti per riguardo la durata scusate allora fatemi uscire dal mio scusate ragazzi ok adesso sono parte dei motocicletisti volevo dire vabbè dettagli continuiamo a fare una partita metti pronto aspettano stavolta togliamo un bot qui ho appena notato una cosa che? se non sbaglio nel video poi devo rivederlo ti ho fatto vedere per un attimo in faccia quindi non so se dovrò metterlo oppure no perché mi sembra di aver aperto per un attimo una schermata di disco quindi excuse me vabbè ora non serviranno più i like adesso ti hanno già visto in faccia e il mister pisi fa anche il triste eeeh chissà per chi you see me rolling you see me popping devo andare a mangiare vabbè questa parte la dovrò tagliare addio ciao a dopo ok ok ma tanto ormai scusate per voi sarà passato sicuramente un millisecondo però per me è passato una mezz'ora per me esatto perché il mio amico era andato a mangiare 22 minuti il video ma va perché va aperto mannaggia la mille ma che è stato che mi sta succedendo un miliardesimo uno schiocco di dita è passato e per me invece è stato tantissimo ho mangiato pollo buono ah buono io invece ho fatto un pranzo un po' imbarazzante che non vorrei dire per favore per favore non bombardatemi nei commenti che cosa hai mangiato quella sera io io non lo dico mi piace ma vi dico con tutto il mio dispiacere scusa ma non te lo posso dire ok dai con io non lo so ma io per rispettare la privacy non lo dici esatto tanto ormai so che tra poco c'è din 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 dovevo farlo stare molto la mia uscita sei tranquilli non sono infetto non partano polemiche nei commenti e sei infetto e va se scrivete così vi blocco del canale lo so sono severo però questa è l'educazione dei miei genitori grazie e dai non lo capisco cosa sta succedendo parire infanzito no no ci siamo fidati la vicenda secondo me comunque i botta uso usano tutti l'attacco rapido anche se lo fanno a caso vedi vedi che tirano a caso si usano sono stupidi no 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 un'altra parte mi siano che mi stavano visto che messo io ho messo ticket a c'è tranquillo che le mie bombe fanno ancora più male no non intendo quelle cose le mie bombe ma che cosa cos'è quelle cose ho copiato da una persona cavolo ma basta non basta debbie al copyright una malattia non credevo guarda per fortuna che stai facendo un video così almeno perché ragazzi dovete sapere che non regano l'amicizia grazie non sto non sto non posso fare non posso accettare richieste spiace scusate scusate tantissima questo video può terminare qua ciao amici ci vediamo forse dopo